La musica come fine degli affanni per adoperare lo stesso significato del nome di Pausillipon, scelto da Publio Ovedio Pollione per la sua villa che nel primo secolo a.C. sorgeva appunto sulla punta estrema di Pausillipo. Ed è qui, in uno dei più bei siti archeologici del mondo, nell'eccellente acustica dei teatri romani accanto alla villa imperiale, che fino al 4 agosto è in programma una rassegna di concerti tenuti al tramonto senza utilizzare illuminazione artificiale né sonorizzazione nel rispetto dell'area archeologica. Percorsa la grotta di Seiano si ascolteranno brani del repertorio classico e moderno ma anche inediti, da Trabaci, Sabini, Gesualdo da Venosa e Susanna, a Scarlatti, Pergolesi, Donizetti e Debussy, dando spazio anche a giovani musicisti napoletani ed europei, oltre a maestri di fama internazionale e ad iniziative di beneficenza come la serata di apertura, in favore dei bambini leucemici dell'ospedale Santo Bono Pausillipon. La Nuit de Té a Pausillipo è il titolo di una raccolta di melodie di Gaetano Donizetti del 1836 ed è il nome scelto per far riscoprire la straordinaria bellezza di un luogo che ha sempre ispirato scrittori, pittori, viaggiatori del Grand Tour, ma anche i musicisti italiani ed europei da oltre quattro secoli e che fa parte di un'area come quella della Gaiola, che è in piena attività di ricerca e divulgazione scientifica e naturalistica anche e soprattutto per i diversi valori del mare per Napoli ed in particolare per la sua area marina protetta. Questi luoghi possono rappresentare veramente insieme una valvola di rinascita della città di Napoli che deve ripartire dal proprio mare innanzitutto. Venite a vedere cosa c'è sott'acqua nel nostro mare, non esiste in nessuna altra parte del mondo. Tutte le iniziative in cui si fa solidarietà, Napoli è sempre presente, io per quanto è possibile ci sarò e poi sostengo molto le iniziative che fa. Le ultime analisi hanno detto che in diversi tratti del mare la qualità è eccellente, quindi anche questo forse è merito di tante persone che hanno lavorato e che in silenzio cercano di fare qualcosa per la nostra città.